vincenzo partiamo da te dallo studio di che si occupa il mio studio è specializzato in progettazione architettonica ed interni siamo follamente innamorati del del progetto dell'idea del progetto crediamo molto nel progetto residenziale o anche altre tipo di specializzati in residenziale facciamo anche poi negozi uffici proprio sugli uffici è quello che ci piace portare quello che si vive all'interno della casa nell'ufficio immaginiamo come l'ufficio generalmente un luogo angusto invece per noi è motivo di sentirsi a casa noi ci siamo conosciuti anche grazie a un amico comune fotografo paolo riolzi quindi significa che sei attento anche siete attenti anche alla rappresentazione del progetto alla fotografia in questo caso al messaggio che deve dare l'architettura il progetto a chi la visita e chi la guarda per la prima volta che il progetto vuoi raccontare il progetto che voglio raccontare è un progetto che abbiamo che ha fotografato anche paolo in questo caso che si chiama casa puntare casa puntare è una casa che è una villa unifamiliare il puntare è perché a ragusa ci sono le puntare della roccia affiorante che viene fuori dalla terra e quindi siccome per me il progetto è estremamente radicato nel territorio in cui si va ad innestare ho dato il nome a questo a questa casa per questo motivo si sviluppa su tre livelli ed è di 600 metri quadri totali in cui i volumi esterni sono dichiarati i materiali che utilizzo sono la pietra il legno e il vetro mi piace molto avere l'idea della compattezza del legno del scusi della pietra della stabilità della flessibilità del legno la flessibilità del legno e anche il calore che il legno da all'interno della casa e il vetro per le trasparenze infatti la casa è proprio costituita da grandi pareti vetrate che hanno uno stretto rapporto con il vetro performante ovviamente che ormai da delle performance pazzesche immagino si in questo caso abbiamo utilizzato anche degli infissi che sono anche automatici che si possono anche aprire e chiudere con il cellulare non diciamo l'azienda però è un livello molto alto con una casa con tanti comfort dove tutto quello che abbiamo fatto è stato realizzato su misura per il cliente per me il cliente è fondamentale nel progetto non è non fa parte del progetto è il progetto padre e madre del progetto sì perché per me il cliente lavora a quattro mani insieme a me all'interno del progetto ci fa parte del progetto a me piace molto ascoltare i sogni del cliente e quello che si immagina lui nella casa finita perché sarà lui a vivere quella casa un po' un po' parafroso la cosa pensando al sarto all'idea sartoriale di un vestito in cui lo cuocio addosso alla persona e perché sarà la persona che porterà addosso quel vestito in quel momento lì poi in quel momento lì in quella con quella corporatura e quel portamento esatto con quelle linee un altro progetto che racconti a fuori studio un altro progetto è Casa Rosa questo è un progetto che è un in progress sta partendo dove in questi giorni il cantiere anche questo è una villa è una villa di 300 metri quadrati quindi il piano terra è del figlio e il primo piano dei genitori il concept del progetto sono due grandi piastre in calcestruzzo dove sono interposti dei setti che creano lo spazio a me piace molto l'idea di uno spazio fluido dinamico di uno spazio in cui le persone quando entrano all'interno della casa non è uno spazio statico ma man mano che ci si muova all'interno di essa cambiano le visuali, cambiano le prospettive quindi anche i percorsi studi anche i percorsi oltre a questi materiali che hai citato ce ne sono altri importanti faccio un po' degli innesti con dei materiali anche di lusso di pregio come può essere il travertino Navona come può essere anche l'emperador Dark dei materiali che comunque danno o perché il cliente ha voglia e desiderio di inserirlo all'interno o perché magari restituiscono pregio a quello che è la casa, l'ambiente interno Senti un sommario, un occhiello una frase sul progetto dell'outdoor, degli esterni come lo vedi sei molto concentrato giustamente sull'architettura, sulle viste però effettivamente l'outdoor fa parte di questo diaframma L'outdoor fa parte perché come dicevo anche prima mi piace molto progettare con grandi aperture vetrate finestre anche di 15 metri che affacciano sul giardino quindi per me l'outdoor è fondamentale proprio perché crea quell'innesto con l'interno Deleghi il progetto o lo fai tu in prima persona? Lo faccio in prima persona non mi occupo di progettazione di paesaggio ma mi occupo della progettazione degli spazi interni delle relazioni che ci sono tra zone soleggiate e zone d'onda Diciamo che anche i codici che le aziende propongono ultimamente sono molto strutturati rispetto a un tempo dalle piccole e leggere architetture Oggi diciamo che si vedono più nelle aziende più architettura contemporanea anche nella progettazione dell'outdoor una volta forse credo che era un po' meno probabile Era più in stile forse, era più vernacolare Senti, una parola chiave per te nel progetto nel tuo modo di progettare Semplicità È la seconda volta che esce oggi effettivamente Semplicità che è un po' di analismo Un po' è una derivazione Ora uso un maestro un architetto famoso che è chiaramente Mies proprio per la semplicità che lui ha posto nei suoi progetti per la schiettezza dei materiali per il fatto di denunciare direttamente quello che è il progetto Grazie Grazie a te